Poi c'è una fase di decrescita, che tecnicamente si dice sono più le cellule che muoiono di quelle che si riproducono, e poi c'è la fase di letalità dove abbiamo finito il ciclo. Cioè è proprio un ciclo così, no? Vedete, va su, poi a un certo punto, diciamo, va in pareggio e poi finisce la fase, l'attività fermentativa. E allora lo prendete prima, cioè da una volta e mezzo al doppio. Cioè vuol dire una volta 6, una volta 7, una volta 8, una volta 9, fino al doppio. Un pane molto meno acido, perché se lo assaggiamo... Pizzica proprio poco. E questo gusto lattico di yogurt è molto leggero. Se voi aspettate che arriva al doppio, si sentirà un gusto di yogurt più pronunciato, no? Ok? Acqua 24-26 gradi se viene da una cantinetta a 16-18 gradi. Acqua 35-40 gradi se viene da frigo. Colore, odore, sapore, ve l'ho detto, bianco tendente all'olio. Socra, bolloso, spumoso e non liquido, no grigio, gusto di yogurt. Questo è un po' tutto quello che c'è da sapere sull'Icolì. E ci vediamo alla prossima lezione.